Io sono un ex allievo del corso di regia qua al Centro Sperimentale, tra le cose più belle che mi ricordo del triennio passato qua sono sicuramente le lezioni di direzione dell'attore con Daniele Lucchetti. Adesso sto lavorando sul mio primo film, è un film prodotto dalla Italian International Film con la produzione esecutiva della CSC Production, quindi la divisione di produzione del Centro Sperimentale, al quale lavorerò con tutti i colleghi che ho conosciuto ora l'altro durante il triennio passato al Centro Sperimentale.